se hai bisogno di soldi, una giunta dell'axo o completi moddati non esitare a contattarmi iscriviti a tutti i miei gruppi telegram, next gen e all gen ragazzi iscrivetevi a tutti i miei social e se siete da ps in descrizione trovate i gruppi anche per playstation e adesso al nuovo video bentornati raga qua è Savix che vi parla ragazzi allora raga after patch della duplicazione con la base operativa ragazzi allora la duplicazione è diventata un po' più lunga ragazzi ma niente di impossibile la cosa fantastica che è in solo quindi requisiti raga base operativa con all'interno la ISI quindi il veicolo da duplicare e dobbiamo avere una moto ragazzi a questo punto ci servirà l'ufficio CEO con almeno un piano e questo piano deve essere pieno di veicoli ragazzi e almeno una moto ragazzi a questo punto una volta che abbiamo fatto ciò ci servirà il com quindi il bunker ragazzi e dentro il com ci dobbiamo mettere al deposito veicoli quindi al terzo posto una LG comunque sia un veicolo da sacrificare ragazzi deve stare all'interno del cono a questo punto possiamo iniziare con il glitch ragazzi ed entriamo dentro la nostra base operativa ragazzi vi ricordo che questo glitch raga non cambia le targhe quindi dopo che vendete più di due macchine vi darà automaticamente il blocco vendite quindi vi consiglio vivivamente di mettere le targhe personalizzate prima di vendere le auto ragazzi fondamentale a questo punto raga ci dirigiamo sul veicolo che vogliamo duplicare quindi a questo punto una volta sulla ISI raga schiacciamo freccia sinistra non vi sbagliate una volta che avete schiacciato freccia sinistra raga dopo un breve caricamento saremo all'interno del nostro Avenger a questo punto una volta all'interno dell'Avenger ragazzi facciamo una modifica qualsiasi e usciamo ragazzi dall'Avenger una volta che saremo tornati dentro la base ragazzi ci farà scendere dal veicolo noi risaliamo sul veicolo e usciamo dalla base accelerando a questo punto non ci resta altro che scendere ragazzi dal veicolo e mandare al deposito la nostra ISI dal menu interazione a questo punto chiamiamo il meccanico raga e andiamo a richiedere la moto che avevamo messo nel piano dell'ufficio CEO raga una volta richiamata la moto aspettiamo che arriva e quando la moto arriva saliamo sulla moto ed entriamo dentro la base operativa ragazzi mi raccomando dovete sostituirla con la moto che sta dentro la base operativa che vi ho fatto mettere all'inizio del glitch ragazzi quindi accettate il messaggio di sostituzione senza nessun problema e sostituite il veicolo quindi una volta che l'abbiamo sostituito a questo punto non ci resta altro che riandare ragazzi sul veicolo che vogliamo duplicare quindi di nuovo sulla ISI una volta sulla ISI ragazzi dobbiamo fare di nuovo freccia sinistra per entrare nelle modifiche dell'Avenger e spawneremo ragazzi invece che con l'auto a piedi a questo punto siamo quasi alla fine della duplicazione raga non ci resta altro che andare in questo punto dell'Avenger ragazzi e cliccare a OX per uscire dal portellone davanti non ci farà uscire ma dopo circa 5 secondi ci butterà fuori in automatico dalla Verge ragazzi e spawneremo all'interno della nostra base operativa che sarà completamente glitchata senza nessun veicolo e dopo alcuni secondi raga spawneremo in un punto a casissimo della mappa adesso dobbiamo richiedere il veicolo da sacrificare il veicolo che avevamo messo all'interno del nostro COM ragazzi una volta che siamo sicuri che il veicolo è spawnato raga non ci resta altro che andare dal nostro CEO voi potete usare il teletrasporto oppure potete usare un veicolo speciale io ragazzi preferisco usare il veicolo speciale per sicurezza perché se a volte il teletrasporto viene fatto male può succedere che il glitch si sbarca bisogna riniziare tutto da capo vi lascio a voi la decisione di come spostarvi io quindi prenderò lo sparro e andrò al mio ufficio CEO quindi raga a questo punto una volta arrivati al nostro ufficio CEO dobbiamo rubare un'auto di un civile qualsiasi ragazzo l'importante è che non sia la nostra quindi io scendo dallo sparro prendo a casissimo quest'auto del civile e la inserisco nel piano 1 da dove ho preso la moto prima del CEO ragazzi fondamentale dovete reinserirla nello stesso piano se no il glitch non funziona adesso raga ci sarà una breve schermata nera dopodiché una schermata glitchata e spawneremo all'interno della nostra base ragazzi a questo punto non ci resta altro che andare sulla easy raga fare una piccola modifica e una volta che abbiamo fatto la modifica avremo completato la nostra duplicazione quindi la LG che stava dentro il com ragazzi è diventata una easy vi ricordo che per vendere queste auto dovete avere la targa personalizzata se no vi darà il blocco vendite ragazzi io spero che i miei video vi piacciono lasciate un like, lasciate un commento e supportate Exavix se volete avere la conferma ragazzi che la duplicazione è stata fatta correttamente aprite il telefono raga provate a comprare qualsiasi veicolo nel com e come potete vedere invece della LG ci sarà la easy quindi lasciate un like, condividete, iscrivetevi, attivate la campanellina e se vi serve un account moddati per Xbox ragazzi io non ho desiderato a contattarmi e spada bamme raga al prossimo video buona visione buona visione